Buonasera, ormai una vita fa, prima che gli smartphone conquistassero il mondo e si iniziasse a parlare in corsivo, Antonio Conte non era ancora un allenatore di livello mondiale. Nella stagione 2006-2007, la sua prima da allenatore professionista, il tecnico Salentino non riuscirà a salvare l'Arezzo, impelagato nella lotta per non retrocedere dalla Serie B. Termina la stagione e l'allenatore rimane senza panchina. Sei mesi dopo, il 22 dicembre 2007, al San Nicola di Bari si presenta il Lecce di Giuseppe Papadopulo. Le due squadre rivali stanno vivendo due campionati di Serie B profondamente diversi. Il Lecce è nelle zone alte e il Bari invece sta galeggiando pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Il derby termina clamorosamente per 4-0 in favore dei giallorossi. Il risultato porterà l'allenatore dei galletti Giuseppe Materazzi, sì, il papà di Marco, alle dimissioni e al conseguente arrivo di un giovane allenatore proprio di Lecce, Antonio Conte. I tifosi del Bari non sono contenti dell'arrivo di Conte. La squadra è pericolosamente vicina alle zone calde della classifica, e per risolevare la situazione arriva un tecnico senza esperienza, per lo più di Lecce. Almeno inizialmente lo scetticismo dei supporters biancorossi è più che giustificato. E Conte non inizia bene, anzi, un punto in quattro partite. Siamo alla ventitresima giornata su 42 e il Bari ha solo due punti in più sulla terz'ultima in classifica. Fortunatamente dalla ventiquattresima giornata in poi, nelle diciannove partite rimanenti, i biancorossi porteranno a casa nove vittorie, sette pareggi e sole tre sconfitte. Terminando la stagione ad un comodissimo undicesimo posto, trascinati dai gol del nuovo Cristiano Ronaldo Davide Lanzafame e dalle parate del capitano Gillet. Conte quindi riesce nel suo obiettivo di salvare con tranquillità il Bari e viene riconfermato sulla panchina dei galletti anche per la stagione 2008-2009. E' importante sottolineare come, dopo lo scetticismo iniziale, l'allenatore Salentino si è riuscito a conquistare, oltre la salvezza, anche il cuore dei tifosi biancorossi. Complice in questa impresa, forse ben più difficile, della salvezza, la vittoria contro il Lecce nel derby di ritorno, arrivata per 2-1 in trasferta al Via del Mare. Arriva, a questo punto della storia, il video che mi ha ispirato a parlare di questo Bari. Siamo nel ritiro estivo di preparazione alla stagione 2008-2009. Ricordo ancora che nel 2008 Conte non aveva assolutamente lo status mondiale che ha oggi, per cui fa sorridere la passione di un tifoso che, diciamo, lo paragona a Mourinho, all'epoca fresco nuovo allenatore di Nera Azzurri. Ma le mie parole arrivano fino a un certo punto. Guardiamo insieme e apprezziamo il video in questione. E insomma, comunque sia, ormai ci siamo. L'allenatore c'è. I tifosi pure, infatti faranno il record di abbonamenti quella stagione, con oltre 5200 tessere vendute, e la squadra anche. È rimasta l'ossatura dell'anno precedente e il DS Perinetti ha fatto acquisti ottimi e mirati. In difesa arriva un giovane Ranocchia, sulle ali Emanuele Benito Rivas, e soprattutto in attacco arriva Paolo Vitor Barrito. La stagione inizia bene e dopo sette giornate i biancorossi sono nelle zone ante della classifica e ancora imbattuti. Poi arriveranno due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Avellino, che solo inizialmente ridimensioneranno le ambizioni dei biancorossi. Dopo questo brusco stop, però, il Bari ripende la marcia e alla fine del girone d'andata si trova soltanto a meno uno da Livorno primo in classifica. Arriva gennaio e con questo il mercato. Perinetti porta in riva all'Adriatico Lanzafame, per lui è un ritorno, Guberti e Kutuzov. La squadra, a questo punto, è pronta e matura per tentare la promozione diretta in Serie A. Arrivano ottimi risultati. Il Bari rimane imbattuto per 16 giornate e, come nelle migliori sceneggiature hollywoodiane, il traguardo promozione arriva la sera dell'8 maggio 2009, proprio durante la festa di San Nicola, santo patrono della città. Tra l'altro, la sera dell'8 maggio, il Bari non è neanche in campo. Chi sta giocando è il Livorno. Una sconfitta dei Toscani permetterebbe ai Biancorossi di festeggiare la promozione diretta in Serie A. E la sconfitta, in questo caso, arriva. Il Livorno perde per 1-0 in casa contro la tristina di Rolando Maran. Ed ecco che arriva l'ufficialità. Il Bari, dopo 8 anni, è tornato in massima serie. Tra l'altro, quella sarà l'ultima promozione del Bari in Serie A. Almeno fino a questo momento. La gente che già era in strada a festeggiare il santo patrono esplode di gioia. Antonio Conte ci è riuscito. Ha preso una squadra grigia che galleggiava quasi per inerzia in Serie B e le ha dato un'identità. Ai tifosi torna in mente quel video. Quel grido Antonio Conte, portaci in Champions League. Nulla in quel momento sembra impossibile ai tifosi biancorossi. La realtà, però, sveglierà presto i baresi da quel sogno. Il 23 giugno 2009, due settimane dopo il meritato rinnovo, Conte, riuscendo il contratto, che lo legava ai biancorossi. Divergenze di vedute, annunceranno le parti. Qui ci sta bene il meme Ehi, ma questa scena l'ho già vista. È un classico. Perché Conte utilizzerà la stessa motivazione per salutare anche la Juve e l'Inter. Sulla panchiera biancorossa si sederà poi Gian Piero Ventura, che a Bari farà un primo anno da urlo in senso positivo e un secondo anno da urlo in senso negativo. Di lui, magari, parliamo in un prossimo video. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi che tanto è gratis. Ciao belli!